Il Vallo di Allulucane è un'occasione dell'incontro sull'emergenza signale. Incontriamo il presidente della Coldiretti Vito Busillo. Io sono qua proprio per dimostrare la vicinanza del presidente della Coldiretti provinciale agli associati ma agli agricoltori tutti. Un problema questo ormai è reale, si tratta di non poter fare proprio più agricoltura in questo territorio, non solo nel territorio del parco, in verità anche nel territorio limitrofa al parco. Perché il problema non è di per sé il parco, ma il problema è ormai il numero esagerato di cinghiali, non solo di cinghiali ma anche di lupi, ma anche di cervi, ma anche di volateri. Quindi diventa complicato proprio svolgere l'attività agricola. Noi abbiamo fatto una proposta di mettere in piedi un processo emergenziale, che ormai è una calamità naturale, vuol dire mettere in piedi un percorso di straordinarietà. La prima cosa abbiamo chiesto ai sindaci, io ho chiesto ai sindaci, di smettere la fascia di sindaco, andare in prefettura e avviare un grande processo di partecipazione, soprattutto di scontro e di confronto con le istituzioni regionali e con le istituzioni nazionali per avviare questo percorso che parte da una rivisitazione delle norme nazionali, da una rivisitazione della norma regionale di difedimento sul parco, ma parte innanzitutto da una straordinarietà che deve mettere in piedi un processo che metta l'agricoltura ancora in condizione di poter fare l'agricoltura. Noi chiediamo questo, lo chiediamo alle istituzioni, lo chiediamo alla regione, lo chiediamo allo governo italiano. C'è bisogno adesso di avviare un grande processo di verifica, di conoscenza, di partecipazione, ma anche un grande processo decisionale, il momento anche di decidere che cosa fare.